Le precauzioni da prendere in gravidanza sono importanti, sono importanti perché vi proteggono da un'infezione che come sappiamo nella maggior parte dei casi non comporta sintomi particolari ma comporta complessità organizzative e qualche volta la necessità di intervenire anche sulla malattia e quindi quello che ormai tutti sappiamo, sono passati mesi, le mascherine, il lavaggio delle mani, il distanziamento sociale. Ora queste cose sembrano semplici, vanno applicate con grande attenzione. Le mascherine sono use e getta, quindi non riciclate, non tenete la mascherina in tasca, rimettetela più volte, ma mascherine chirurgiche vanno bene, le utilizzate, le togliete da dietro in avanti e le gettate. Evitate di toccare la mascherina e poi toccare gli occhi, il naso o la bocca o quant'altro. Questo è importante. Importante non è soltanto diciamo una sorta di invenzione, ma è proprio dimostrato, c'è un bellissimo studio su 400.000 bambini negli Stati Uniti e sono stati monitorati con il distanziamento sociale, le mascherine, il lavaggio delle mani e si è visto che le infezioni virali si sono ridotte di circa il 70%. Quindi diciamo che anche nei bambini c'è la prova che certi comportamenti proteggono in larga misura dalla trasmissione dei virus che si trasmettono per via aerea. Quindi la mascherina è importante se usata bene.